Musica Un'intensa attività di controllo del territorio con particolari attenzioni al controllo dell'attività avvenatoria è stata condotta dal comando provinciale del Corpo Forestale di Foggia negli ultimi giorni. Diverse farture di forestali hanno effettuato controlli sia nell'area del subappinio Dauna che sul Gargano. Più di 50 persone controllate, delle quali due sono state denunciate a piedi libero e due fucili sono stati sequestrati. L'attività che rientra nei servizi, che periodicamente vengono effettuati nel territorio provinciale, ha interessato tutta l'area del subappinio Dauna e del Gargano, dove durante i controlli è stata denunciata una persona intenta ad esercitare l'attività avvenatoria con mezzi non consentiti, alla quale è stata sequestrata l'arma, una carabina ed il relativo munizionamento. Mentre un'altra persona è stata fermata dopo lungo inseguimento, che hanno individuato un incacciatore residente a Vieste mentre esercitava l'attività avvenatoria in area parco. Anche in questo caso, oltre alla denuncia a piedi libero per attività avvenatoria, in area protetta sono stati sequestrati un'arma, un fucile da caccia e calibro 12 e relativo munizionamento. Domani, mercoledì alle ore 10.30, si tratta alla presentazione del progetto Manfroni Attiva, un nuovo modo di approcciarsi alla città e di viverla in maniera solubre. Nello stile di vita moderno, la mancanza di movimento dovuta alla progressiva motorizzazione, automazione e computerizzazione esercita un notevole impatto negativo sulla salute. Creare condizioni che favoriscono il movimento nell'ambiente urbano tendono conto delle disuguaglianze sociali e della salute diventa un'importanza strategica per combattere la sedentarietà. I progetti realizzati dal Comune di Manfredonia, con il contributo dell'AS della provincia di Foggia, si chiamano Manfredonia Attiva e Movidonia. Hanno l'obiettivo di far diventare la città una palestra a cielo aperto per tutti attraverso l'realizzazione di un circolo del centro storico di un percorso di quasi 5 chilometri. Manfredonia Attiva è uno studio molto dettagliato del territorio abitato che individua gli ambienti residenziali omogeni per la salute, ovvero parti di territori all'interno del quale si progettano gli spazi educativi per la salute. Città Attiva è l'unica applicazione scaricabile gratuitamente per iPhone per guadagnare salute con l'esercizio fisico lento. Attraverso di essa si può imparare qual è l'esercizio fisico che rimane utile per la salute. L'appuntamento per avere maggiori informazioni e scoprire ulteriormente i dettagli e il prossimo mercodì ha la presentazione in allo consigliare della città di Manfredonia dove interverranno il sindaco Riccardi, l'Antonio Varrecchia, assessore alla pubblica istruzione e Luciano Rizzi, referente Costruire in Project. E come a Manfredonia quest'anno sono in svolgimento i mercatini di Natale, la stessa cosa capita anche a mattinata. Infatti quest'anno nei giorni 20, 22 e 5 gennaio le associazioni locali di mattinata hanno organizzato questi eventi per piccoli e grandi. Nei giorni festivi che precedono il Santo Natale lungo le vie e le piazze del centro del paese si possono scoprire l'atmosfera gioiosa e tipica della preparazione alla festività. Il tintinino di addobbi, le musiche natalizie, dei profumi, i sapori e colori della tradizione di mattinata. In occasione ci sarà anche un oltre al villaggio organizzato in piazza, ci sarà la presenza di Babbo Natale e il 5 gennaio la Sagra dell'Epifania. Tradizione e festività l'insegna del presepio più bello e consuetudine assistere ogni anno alla mostra del presepio artigianale nel suggestivo chiostro del Convento di Santa Maria delle Grazie organizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepio di Manfredonia che dall'anno scorso ha riproposto alcune storiche iniziative coinvolgendo famiglie, parrocchie e scuole. Una tra le tante è la benedizione del bambino che dieci anni fa era celebrata dall'arcivescovo in piazza Giovanni XXIII l'associazione è riuscita a riorganizzarla grazie all'adesione del sacerdote Don Michele Nasuti che ha accolto volentieri questa tradizione tant'è che domenica 14 sono benedette le statuette dei bambini Gesù. Un'altra bella tradizione rilanciata quest'anno è il concorso del presepio più bello a cui possono partecipare il singolo cittadino, la famiglia, la scuola, la classe, la parrocchia o l'oratorio. I presepi completati entro l'8 dicembre e realizzati artigianalmente verranno visionati previo accordo all'associazione Amici del Presepio che li valuterà considerando la rilevanza della natività dell'interno della struttura, la creatività e l'originità dell'utilizzo dei materiali, il paesaggio nel suo insieme e il senso artistico e spirituale espresso. Quello più bello verrà premiato il 6 gennaio nell'auditorio del convento. Grazie a tutti.